Ehi ragazzi, benvenuti su Notizie Gossip, il vostro canale dedicato alle ultime novità e ai pettegolezzi più succulenti. Oggi abbiamo un'esplosione di gossip fresco di stampa. Chi si ricorda di quel tronista di uomini e donne? Marco Marciano. Sì, proprio lui. Ha annunciato una notizia che ha fatto impazzire tutti i suoi fan. Diventerà papà. Sì, avete sentito bene. Il ragazzo sembra aver trovato l'amore vero con la sua compagna Camilla Fardella, insieme da Lontano 2020. Dopo tutte le avventure e le storie passate nella trasmissione, sembra che questa relazione sia quella giusta. E cosa c'è di più bello di unire due cuori appassionati? Beh, l'arrivo di un bebè, ovviamente. La coppia ha condiviso la dolce notizia su Instagram, mostrando uno scatto dell'ecografia con tanto di dolce messaggio. I sei stato sognato, desiderato e amato dal primo istante, mamma e papà non vedono l'ora di donarti tutto l'amore del mondo. Che tenerezza! Vero? Ma aspettate, c'è di più. Pare che il piccolo in arrivo sarà un maschietto. Sì, avremo un piccolo principe in arrivo nel 2024. Che emozione! E ora veniamo ai dettagli piccanti del passato di Marco. Chi ricorda la sua storia con Vittoria Daganello? Sembra che dopo la fine della loro storia, Marco abbia avuto un po' di incertezze sentimentali. Con Vittoria Mijailovic, figlia di Siniscia, sembrava esserci stata un'altalena di emozioni. Ma alla fine hanno preso strade diverse. E che dire del flirt con Carolina Stramare, la reginetta di bellezza. Pare che sia stato solo un fuoco di paglia. Ma poi è arrivata Camilla nella sua vita. Una personal trainer con cui sembra aver trovato la stabilità. Chi l'avrebbe mai detto? Dopo tutte le brevi storie, sembra che finalmente Marco abbia trovato il vero amore. E ora, ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale, lasciare un bel like e commentare qui sotto cosa ne pensate di questa notizia bomba. Grazie a tutti voi per il vostro supporto. E continuate a seguirci su Notizie Gossip per tutte le ultime novità dal mondo dei VIP.